Il terreno di proprietà dell'uomo è rimasto schiacciato tra la ruota e il trattore un pilastro in metallo. È accaduto questa sera, martedì 21 agosto, intorno alle 19, su un terreno di proprietà dell'uomo, situato sulla provinciale 56 San Martino Canavese. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Castellamonte, i vigili del fuoco di Ivrea, i carabinieri della radiomobile di Ivrea e il sindaco di San Martino, Silvana Rizzato. Inutili purtroppo i tentativi di salvare l'uomo, Antonio Pastore Giacolino, 88 anni, secondo una prima ricostruzione potrebbe aver cercato di fermare il trattore in movimento. Grazie a tutti.